Mara Venier si lascia andare a delle commoventi parole per il marito Nicola, un gesto d'amore incredibile che emoziona tutti i fan Passano gli anni, ma Mara Venier continua ad essere uno dei volti insostituibili della Rai Nonostante ormai da tempo si vociferi di un suo addio e si pensi già alla sua erede, che potrebbe essere Leonora Daniele, ogni volta, ad inizio settembre, la zia si ripresenta in studio più carica che mai, pronta a fare il pieno dei ascolti con la sua bravura ed il suo carisma Anche per questa stagione televisiva 2024 fratto 2025 è stata scelta per guidare Domenica in, suo storico programma, stando alle anticipazioni, per quest'anno il programma del weekend di Rai 1 dovrebbe essere basato su un mix di interviste e talk show, con diversi ospiti femminili fissi in studio Anche questa volta, quindi, la Venier sarà la regina in Rai della Domenica, al suo fianco, come al solito, il marito Nicola Carraro, con cui sta insieme ormai da tantissimi anni La coppia ha affrontato parecchie difficoltà, per problemi di salute, in questi ultimi anni e, ad oggi, appare più innamorata che mai Le parole della conduttrice per il marito dimostrano quanto siano uniti e fanno commuovere tutti i fan, ecco cosa ha detto, veramente dolcissima Mara Veniere le dolci parole per il marito Nicola Carraro, una coppia solida che commuove il web Dopo i matrimoni con Ferracini e Gerri Callà, nonché le relazioni con Capponi, Arbore, e Asante, la Veniera ha trovato l'amore tra le braccia dell'imprenditore Nicola Carraro, con la quale è sposata dal 2006 I due hanno condiviso tante cose insieme e, a testimonianza del loro legame, sono arrivate le dolci parole della conduttrice, riportate sulla propria pagina Instagram dal sito Che Donna It. Mi commuovo ancora quando Nicola dice mia moglie. All'inizio non è stato facile, ero spaventata, ma dopo siamo ancora qua, più uniti che mai Sono stati anni meravigliosi, mi ha presa per quella che sono, gli altri volevano cambiarmi la dolce riflessione fatta dalla Veniere Un bellissimo amore che, ancora oggi, emoziona e fa sognare tutti quanti i fan Felice per la sua vita privata, arricchita anche dalla gioia di avere dei nipoti, la Veniere è pronta a rituffarsi sul lavoro Oltre a Domenica In, condurrà anche un dating show dedicato agli over sulla scia di uomini e donne Da Cupido, in studio, proverà a regalare a tante persone un amore bellissimo proprio come quello che ha lei con Nicola